Sarà quest'anno una biennale che respira con la creazione di queste coreografie che ho invitato. Sono tutti molto differenti, ma sono con un focus sulla creazione che è con molta libertà e con molta integrità anche. Non ho scelto da un'idea, ho scelto dal cuore, dall'intelligenza, dell'anima. È come quando sono in fronte ad un'arte di scultura o di pittore. È fisica, è lo stesso, è scelto fisico, lo che è interessante. E spero che il pubblico avrà la stessa impressione, che è una sensazione nel corpo di essere in fronte a queste opere. Grazie. Grazie.